Il Carnevale di Saviano incontra la città di Napoli. Il Carnevale di Saviano incontra la città di Napoli. Il Carnevale di Saviano è una strategia per i paesi che attengono anche questa parte bassa dell'Europa, sicuramente importante. Era necessario arrivare a questo, ci siamo arrivati in breve tempo. Raggiungere obiettivi come questo è una cosa straordinaria, dove praticamente una municipalità che atteneva prima e nel passato solo ed esclusivamente al Comune di Napoli in un pieno dialogo con un altro ente locale, periferico, che è il Comune di Saviano. Quindi penso che siamo sulla strada giusta, siamo su una strada tracciata. In questo mi piace dirlo, ci tengo a dirlo, che Luigi Medi Magistris ha visto bene ed è veramente questa sensibilità che porta dentro l'area metropolitana, ma che viene anche dalla sua consigliatura. Sicuramente ci darà la possibilità di raggiungere risultati importanti, risultati dove l'Europa attraverso dei finanziamenti, la Regione attraverso la possibilità di cogliere altre opportunità economiche, possono dare sia sotto il profilo culturale ma anche quello occupazionale risposte di grande importanza.